buongiorno a tutti allora giubbino con con cappuccio perché dobbiamo parlare di sci quindi che freddo che fa come sempre vi ricordo l'appuntamento questa sera 21 e 30 22 con la diretta con il gigione in cui ne avremo da parlare perché ci sono anche i sorteggioni vedere cosa ho combinato cosa ho preso cosa non ho preso nei sorteggi così poi possiamo mettere da parte per un po la l'europa league la champions league eccetera perché poi se ne parlerà a febbraio però ci sono i sorteggi ne parleremo e poi parleremo anche della giornata di campionato eccetera eccetera però adesso come vedete sono invernale tra virgolette perché dobbiamo parlare scusate della discesa libera maschile di Beaver Creek di una settimanella fa più o meno giorno più giorno meno il primo a scendere è Mattias Meyer vedremo qualcom quale sarà il suo primo tempo da battere ed è sicuramente un tempo di riferimento che è 1 14 e 46 vediamo chi riuscirà a batterlo o se magari è già il migliore con il pettorale 2 scende l'americano Neiman e si mette davanti con un tempo di 42 centesimi più basso di quello di Meyer la domanda è ottimo Neiman o Meyer non ha fatto una super gara vedremo vedremo adesso nel proseguio della delle discese con il pettorale 3 scende Kilde e anche lui migliore al tempo di Neiman mettendosi davanti per 42 centesimi nessuno per ora oggi riesce per ora a restare seduto sul trono del primo per più di uno sciatore vediamo se Kilde ci riuscirà o meno perché è uno dei favoriti con il pettorale 6 tocca al nostro Emanuele Buzzi provare a scalzare Kilde dal trono vediamo cosa combina lo sciatore italiano ma purtroppo è solo sesto quindi ultimo con 93 centesimi di ritardo visto che ne sono scesi già 6 e lui è sesto lui era il sesto è sesto quindi è già ultimo con il pettorale 7 scende Chris Meyer e si prende a sua volta al primo posto con una gara in crescendo prima intermedio ritardo di 12 centesimi poi nei successivi sempre luce verde fino alla fine dove arriva con 23 centesimi di vantaggio con il pettorale 9 scende Feuz scritto Feuz e a sua volta si prende al primo posto anche lui come Chris Meyer gara in crescendo ritardo di 20 centesimi al primo intermedio poi luce verde e arrivo con il vantaggio di ben 41 centesimi sarà la gara che gli regalerà la vittoria o ci sarà qualcun altro che di carpirà il podio con il pettorale 13 scende il nostro paris vediamo cosa combina l'alfiere azzurro delle discipline veloci ahimè è solo sesto con ben 88 centesimi di ritardo vedremo se riuscirà a rimanere nei 10 comunque dopo la discesa dei primi 20 sciatori Feuz primo con il tempo di 1 12 98 secondo Claret a 41 centesimi secondo Chris Meyer a 41 centesimi quarto Reichelt a 43 centesimi quinto Childe a 64 sesto Giantsrud a 87 a pari merito con Teot ottavo Paris a 88 a un centesimo per un centesimino non è sesto sennò potevano essere in tre al sesto posto nono Caviezel a 88 anche lui a un centesimino da Paris e decimo Janca nono Caviezel a 95 scusate a 7 centesimi e decimo Janca a 1 06 ho visto male la riglina 95 centesimi Caviezel a 1 06 Janca decimo con il pettorale 25 mentre nessuno per ora è riuscito a star davanti a Feuz scende il nostro Peter Phil speriamo in una buona gara nelle prime 15 posizioni magari per cercare di abbassare un attimino questo pettorale 25 che non è il massimo e cercare di tornare nel primo gruppo di merito purtroppo è solo ventiquattresimo con due secondi e 04 di ritardo e mi sa che sarà dura restare nei 30 con il pettorale 27 scende il nostro Matteo Marsaglia speriamo che lui riesca a stare nei 15 ma è solo ventiduesimo a un secondo e 70 di ritardo ma ricordiamoci che viene da un infortunio si era infortunato due settimane prima quindi a fine novembre la metà novembre più o meno e quindi doveva rientrare dopo sei settimane invece è rientrato subito quindi non è francamente al top con il pettorale 33 scende il nostro Mattia Cass sarebbe anche per lui importante entrare nei 15 per cercare di migliorare il suo pettorale ma purtroppo è solo ventiquattresimo a 1,59 dal primo quindi capite che se lui è 1,59 e Marsaglia era una 70 e lui è ventiduesimo si sa che Marsaglia sta ahimè piano piano per uscire dai primi 30 comunque classifica direi quasi finale dopo 33 scendori abbiamo primo sempre Fertz secondo Claret a pari con Chris Meyer quarto Reichel quinto Sejoster che si è inserito sesto Cossian Siegel che si è inserito settimo Kild e ottavo Théo e a pari merito al decimo posto Baillet e Paris che anche lui Baillet si è inserito nelle prime posizioni dopo la discesa di tutti gli atleti questa è la classifica finale in cui c'è un'altra sorpresina di un altro sciatore che è entrato nei 10 comunque primo Fertz secondo Claret e Chris Meyer a pari merito quarto Reichel quinto Sejoster sesto Siegel settimo Schweiger che è settimo a pari merito di Kild che anche lui si è inserito con un pettorale sopra intorno al 40 se non sbaglio complimenti quindi al nono posto Jan Rosum e Théo e per quanto riguarda gli italiani l'unico che rimane nei 30 è Paris undicesimo che è uscito proprio di un pelino pelino dai primi 10 detto questo io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo ai prossimi video che riguarderanno naturalmente ancora lo sci perché devo piano piano recuperare un po' di gare anche quelle del ultimo weekend ciao ciao